Buongiorno gente e buon anno, siamo entrati in questo 2018 e io come promesso inizio i video che mi avete un po' richiesto se sentite questo umore sottofondo ho il computer acceso perché come al solito se io non ho Netflix attivo mi annoio inizio con un tutorial perché in questo Natale vi ho mostrato questo look qui, ve lo metto qui la foto vi è piaciuto tantissimo e alcune di voi mi hanno chiesto di riprodurlo quindi ho detto a questo punto lo faccio anche perché poi mi mancava fare i tutorial quindi ho detto ricomincio la differenza che vedrete però è che io in questo tutorial avevo applicato questa tinta di MAC sapete che questo rosso bellissimo Dance With Me è un rosso, cioè è prettamente il rosso natalizio quindi per me è perfetto, io adoro le tinte di MAC, sapete quanto le adoro infatti è una tinta confortevole, dura, dura perché io il massimo che ho dovuto riappregarle è stata soltanto una volta quindi sono tinte che io amo follemente e vedete come si sposa bene con un rosso o con un nude che però non è totalmente un nude bianchetto cioè vale a dire un nude che invece è più rosato, quasi leggermente pescato e io adoro perché soprattutto questo genere di nude riesce a far risaltare il bianco dei denti ed è una cosa che io adoro due paroline perché tanto vedrete scritto tutto sul video perché io adesso preferisco farli così perché non vorrei annoiarvi più di tanto però se voi volete i tutorial in un altro modo fatemelo sapere vedrete come ho realizzato queste labbra utilizzando questi due prodotti ovvero la matita Cream Color Comfort di Kiko che è la 301, è la tonalità che più adoro e poi questo che è uno dei tanti rossetti MAC che ho che è Peach Blossom, è uno dei rossetti nude che amo di più bene, detto questo gente io come ho detto nel precedente video vi auguro un buon anno, un buon inizio aspetto di sapere la vostra se vi piace il look mettete mi piace se avete qualcosa da dirmi ditemelo sia che sia positivo che negativo cioè mi fa piacere, interagiamo come si dice così mi dite che cosa ne pensate un bacione e al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti